Un tumore raro, scoperto poco più di sette mesi fa, ritenuto inoperabile, pesava due chili e mezzo e si estendeva per oltre 30 centimetri. Eppure, grazie all'intervento dell'Equipe di Chirurgia Generale dell'Oncologico di Bari, un uomo di 59 anni è riuscito a sopravvivere, nonostante l'aspettativa di pochi mesi di vita. Un racconto da lieto fine è cominciato nella tragedia. Sette mesi fa il paziente aveva avvertito forti dolori addominali, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. Dopo essersi sottoposto ad un'attac, la scoperta più difficile si trattava di un tumore retroperitoneale polilobato, con due grandi masse che includevano il rene destro e comprimevano il colon, parte dell'intestino ileale, fegato e vena cava. Un tumore raro, localizzato in un punto complicato da raggiungere per il chirurgo. Inizialmente quella massa è stata definita inoperabile dai medici dell'Istituto Tumori di Bari. Poi, ha raccontato il dottor Michele Simone, che a diretto l'intervento, il paziente è stato sottoposto ad un'operazione complessa di resezione multiviscerale. È stata asportata interamente la massa tumorale e gli organi compromessi, tra cui il rene, surrene e colon destri. Secondo le più moderne linee guida per il trattamento di questo genere di tumori, un intervento della durata di circa 5 ore, concluso con esito positivo. Il tumore è stato interamente asportato, il paziente è in buone condizioni e sta seguendo il regolare decorso post-operatorio. Presto potrà tornare a casa l'ennesimo intervento di successo da parte dell'oncologico di Bari, che ha dato nuova speranza ad un uomo che sembrava non avere più chance di vita.